Ciao, mi chiamo Antonio Valdica, ho 21 anni e vengo da Mirce Crosia, provincia di Cosenza. Il mio talento è cantare. Ho scoperto di avere questo talento all'età di sei anni, prendendo le pentole di mia madre, sbattendole, facendo chiasso, inventavo canzoni, di tutto. In famiglia nessuno canta. Mio padre lavora in autolavaggio, mia madre fa la casalinga, perciò non sono nata in un ambiente musicale. Beh, di certo la mentalità del posto in cui vivo non ha aiutato molto sotto alcuni punti di vista, però mi ha forgiata. Per essere la persona che sono oggi ho dovuto affrontare alcune situazioni poco carine, e quindi non era neanche tanto semplice andare a scuola, non era un posto bello per me. Era diventato un posto buio, un po' come una prigione fondamentalmente, perché non mi sentivo capita. Grazie al canto riesco a sentirmi al 100% me stessa e quella sensazione di star facendo la cosa giusta. Ho incominciato a parlare di me stessa al femminile quando mia cugina capì tutto di me e si riferì al femminile. Mi fece piacere, quindi lo usai sempre. Il canto mi aiuta a scacciare tutti i pensieri negativi, del non sentirsi giusta e non completa. Sono riuscita a perdonare e a farmi forza inseguendo questo mio sogno, capendo che è l'unica cosa che realmente voglio fare e su cui voglio battermi nella vita.